amistadam bella ragazzi carico per un mai da FuseGamer oggi ragazzi siamo qui con una reaccia incredibile perchè oggi ragazzi andremo a sfidare uno dei club più forti al mondo se non il più importante al mondo il Barcellona maschere club ok ragazzi allora ci saranno andate di torno contro questa squadra vi diciamo subito che toglieremo il quadro di Amsic perchè ce l'avete detto in tanti che maglia mettiamo al suo posto decidete voi quindi ditecelo qua sotto con un commento e adesso direi di andare dentro con la reaction forza Napoli sempre speriamo di far bella figura anche a l'una e mezza guardate c'è un ambiente diverso in tutto comunque c'è Griezmann e Swartz non c'è Messi perchè è infortunato comunque vediamo dai un titi vabbè comunque Barcellona stava Griezmann vedremo Elmas per la prima volta noi almeno perchè non l'ho visto con un'altra squadra con Marsiglia vediamo comincia raga dai forza Napoli dai 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 allargalà bravo bravo buona no non puoi mangiarti il sicolo cioè era molto più difficile sbagliarla cacchio come ha fatto Giuseppe l'ha battezzato e portire eh sì la battezzata e la parata buona 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 metti la oh no no che caccia l'avevo questa dentro l'avevo vista dai come fai la porta da la parte di sinistra ok però come hai fatto a sbagliare no dai non ho fatto fare proprio tutto l'ho fatto fare tutto l'ho fatto fare tutto l'ho fatto fare tutto l'ho fatto c'è dai Busquets dai non l'ho mai segnato in vita sull'ho perché è riuscito a caricarsi in dieci minuti ma non l'ho mai segnato Busquets col piede non l'ho mai segnato al massimo di testa cioè cacchio per fare sto tiro ci ha messo 5 secondi ci ha messo per fare sto tiro comunque c'entra campo un po' assente no no perché non vada là ma stavano tutti alti stavano dai però Busquets veramente ve lo giuro non ho mai visto un gol da Busquets bello tiraci vai caglie caglie bravo grande insigne Caillon raga un amore che non finirà mai un'intesa vincente c'è c'è hanno fatto più tagli in questa partita c'è i tagli Caillon insigne tutto l'anno scorso tutto l'anno scorso eh ma la verità cacchio dai cioè pure non stava al centro non stava a sinistra ha togolo comunque forse vediamo vabbè lo togolo primo tempo finito ragazzi partita equilibratissima direi abbiamo fatto azioni comunque forse abbiamo fatto qualche tiraccio uno in più però comunque forse noi stiamo dormendo però concreti ci siamo cominciamo il secondo tempo raga dai dai che sono usciti più di Griezmann e Suarez si approfittiamo dai boom mamma mia che palo veramente è buona vai 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 curri vai tira nooo che parata è costunito di il cacchio quanto pazzi la sta facendo ma che parata che ha fatto dai bravo però dai 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 da dormì si vaffanculo milic mamma mia maronna mia e che cazzo rira a ma cos'è mamma di te ma che ne ho piet maronna mia vaffanculo veramente ma cos'è no ma dai vai giù ma che cazzo è carri carri Aveva il terzo colmato dall'attaccante Questa è proprio l'immagine Ma perché spreghiamo? Nooo Sta vero solito E' normale quando sbagli quelle gole E' normale E' giustissimo così Questo è il calcio Vuoi fare il fenomeno di petto e segnare? Fai una figura di merda Cioè secondo me La figuraccia che ha fatto di petto E' quasi quando tiri un cucchiaino La parola così Quasi qua, stiamo là eh Per come l'ha fatta lui Semi sicura arriva Vabbè raga è andata così Purtroppo Avevo giocato proprio malissimo il secondo tempo Quasi inesistente A parte che il gol ha mangiato Vabbè è meritata la sconfitta Perché non vanno sbagliati quei gol E' giusto che sia così La prima sconfitta La reaction Doveva arrivare Vabbè arriveranno dai Dobbiamo migliorare questa cosa dei gol mangiati Come la miglioriamo tanto? Comprando i cardi Secondo noi Però vabbè Se non arriva comunque sosteneremo sempre Sia Merthens che Milik Infatti Quindi niente Noi andiamo a dormire Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Noi ci rivecchiamo nel prossimo video Bella ragazzi Ma l'è parte Non è un bel sumento Contatto Ma l'è parte Ma l'è parte Ma l'è parte Non è un bel sumento Ma l'è parte Oggi